Per sconfiggere scarafaggi e formiche bisogna colpirli nelle loro tane, proprio dove gli spray non arrivano. Non c'è uno spray che può raggiungerci negli angoli più nascosti. Ma Ride Controller dà la caccia agli insetti anche nei posti più difficili. La sua schiuma micidiale è attiva per due mesi, riempie crepe e fessure, li raggiunge ovunque e li ammazza stecchiti. Ride, linea completa contro gli insetti sgraditi, li ammazza stecchiti, leggere le avvertenze. Ride, linea completa contro gli insetti, li ammazza stecchiti, leggere le avvertenze.